Benvenuti al video dedicato alla partita tra Roma e Salisburgo, dove i Fedain hanno fatto il loro ingresso in Curva Sud soltanto 10 minuti prima dell'inizio della partita, ricevendo un'ovazione da parte di tutto lo stadio. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo evento. Come col Verona sono entrati per ultimi e tutto l'Olimpico ha applaudito e gli ha dedicato un coro. I Fedain non hanno abbandonato la Curva Sud nonostante lo storico striscione sia stato rubato e bruciato dagli hooligans della Stella Rossa. Come col Verona sono entrati per ultimi a decimo dall'inizio del match e tutto lo stadio ha applaudito e gli ha dedicato un coro. Fuori l'Olimpico è anche apparso uno striscione firmato agli amici della Curva, l'amicizia rende i successi più belli e le avversità più lievi. Sempre con voi! Non manca l'appoggio di tutto il tifo romanista agli ultras del Quadraro. In Curva Sud alcuni gruppi hanno esposto gli striscioni al contrario. Il messaggio della Curva Sud per i Fedain, l'amicizia rende le avversità più lievi. I tifosi a supporto della squadra e dello storico gruppo giallorosso che si è visto rubare e bruciare lo stendardo dai sostenitori della Stella Rossa. L'amicizia rende i successi più belli e le avversità più lievi. Sempre con voi! La Curva Sud si compatta a pochi minuti dalla partita col Salisburgo e dopo l'onta dello striscione rubato e bruciato dagli Ulingan Serbi ai danni dei Fedain. Sul lungo Tevere è apparso uno striscione firmato agli amici della Curva che testimonia l'unione forte del settore deciso a cantare all'unisono in una sfida delicata e a mostrare solidarietà a uno dei gruppi storici di tutto il tifo organizzato d'Europa. Speriamo che il video vi sia piaciuto e che abbiate apprezzato le informazioni sull'ovazione degli stadi nei confronti dei Fedain durante la partita Roma-Salisburgo. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e iscrivetevi al canale per non perdere nessuna notizia sul mondo del calcio. Grazie per averci seguito e a presto!